purtroppo è giunto il momento di dire addio a forum il comunicato stampa di mediaset ne è una conferma forum è un programma giudiziario sui canali mediaset che da anni accompagna le mattine di tutti gli italiani è dal 1985 che va in onda ogni giorno su rete 4 fatta eccezione per il sabato e la domenica e che trasmette i processi che animano continuamente il tribunale della trasmissione tutti gli sono particolarmente legati perché ciò che viene trasmesso nel programma è qualcosa di davvero coinvolgente che fa sentire il pubblico spettatore come se fosse parte del programma venendo forum ognuno dice la sua e si sente un po parte del pubblico presente nello studio che osserva e commenta tutto ciò che accade si sente appunto parte della trasmissione purtroppo però a partire da oggi non potrà più farlo stando a ciò che riporta un comunicato stampa che è stato rilasciato proprio nelle ultime ore forum non andrà più in onda a malincuore giunge quindi il momento di dirgli addio un triste addio nonostante degli da capogiro ma per quale ragione forum a partire da oggi non andrà più in onda quest'anno gli ascolti della trasmissione sono andati benissimo e lo conferma anche lo stesso comunicato stampa che è stato pubblicato sulla pagina instagram della programma è sempre stato leader della propria fascia con una media del 19 2 per cento di share e un milione e 400 mila spettatori le puntate più viste hanno toccato medie di oltre il 23 per cento di share queste sono le stesse parole che riporta il comunicato stampa proprio perché ha ottenuto così tanto successo quest'anno per quale ragione allora non va più in onda il motivo lascia di stucco i fan che abituati ad assistere alla regolare messa in onda di forum non potranno più vedere il programma per il momento il remake delle puntate più belle il motivo per il quale forum termina nonostante il grande successo che ha avuto quest'anno è dovuto all'inizio dell'estate e al cambio di programmazione con l'arrivo della bella stagione cambiano i palinsesti e così anche forum che tornerà a essere trasmesso regolarmente a settembre nelle prossime settimane andrà infatti in onda la trasmissione delle sue puntate più belle quelle che hanno tenuto maggiormente incollati i telespettatori al televisore e che hanno generato maggiori discussioni c'è quindi da attendere settembre per il resto